Non si è tornati alla calma perché la calma non era mai stata smarrita. Il clima è stato ottimo. Io ho comunicato delle intervenute di missioni della professoressa Carla Sare che tra le altre cose sono avvenute attraverso una lettera nella quale riconosceva la proficuità dei lavori della Commissione, il clima e evidenziava come quelle di missioni fossero in qualche modo uno sviluppo di alcune perplessità iniziali. Devo dire che lo scambio pistolare, sia quello pubblico sia quello che non è stato reso pubblico, è stato assolutamente più che cordiale, addirittura amichevole. Aggiungerei come si è specificato e chiarito che questa è una commissione di studio governativa e come tale non implica evidentemente né un'adesione alle posizioni del governo tanto meno della maggioranza e che la questione occasionale che ha determinato le dimissioni della professoressa Carla Sare è stata una questione che ha tenuto il governo completamente fuori perché è stata una questione che si è tutta quanta consumata nelle aule parlamentari, sulle quali ovviamente è legittimo avere le proprie idee, il proprio parere e discuterne ma che non coinvolgeva in nessun modo la commissione. Credo che appunto la sobrietà con la quale il tema è stato trattato, ha occupato pochi minuti all'inizio della riunione è certamente un segno di serietà e anche di consapevolezza di qual è il ruolo della commissione. È scambiato questa commissione per qualcosa d'altro, da parte di tutti i membri che ne fanno parte.